In collaborazione con Unesco, l'astigiano candidato a patrimonio dell'umanità. Entro fine mese termineranno i lavori tra la tangenziale sud di Asti e l'autostrada al Bacuneo. L'opera iniziata nel giugno del 2010 ha previsto anche la costruzione di due viadotti per il collegamento alla galleria che si innesta con la Stimare. I lavori costati oltre 200 milioni di euro si sono concentrati sul nodo autostradale di Isola d'Asti che diventa così il più importante della provincia. La riapertura totale del tratto stradale è molto attesa anche dagli abitanti della frazione Piana di San Marzanotto in quanto molti automobilisti, per evitare gli attuali frequenti ingorghi causati dai lavori in corso sulla tangenziale, scelgono la vecchia provinciale San Marzanotto, Isola d'Asti. In frazione Casa Bianca, nella notte un incendio ha distrutto uno dei capannoni della cooperativa Abello, azienda leader a livello nazionale della produzione e commercializzazione di miele. L'immediato intervento dei vigili del fuoco, durato fino all'alba, è valso a circoscrivere le fiamme. I danni sono comunque molto ingenti. E qui nell'Astigiano per domani sono previste numerosissime manifestazioni. A Nizza Monferrato si corre la corsa delle botti in un contesto suggestivo fra le vie del centro storico con l'occasione di gustare i piatti tipici preparati dalle proloco con la rassegna Monferrato in tavola. Quest'anno il comune ha anche coniato i Carlini, la moneta in onore di San Carlo, con cui acquistare i piatti dell'ampio menù. Fra l'altro è stato sistemato un grande palatenda per consumare i pasti comodamente. Ma tornando alla corsa, quest'anno correranno 12 cantine e le semifinali sono previste alle 15.30, la finalissima alle 17.30. A Tigliole d'Asti invece domani è il grande giorno della fiera della razza bovina piemontese. Fin dal mattino, con stelle in stalla, giungeranno nella bella cornice della Chiesa Romanica di San Lorenzo i capi migliori di Fassone. Da mezzogiorno si potrà gustare il vitello allo spiedo in serata al Gran Galà con le animazioni e le premiazioni degli allevatori. A Costigliole, mentre prosegue alla Cantina dei Vini la rassegna di degustazioni 100% Costigliole, domani sarà il grande giorno delle penne nere. Si tiene infatti la ventiquattresima edizione della festa provinciale degli Alpini che cade nel novantesimo anniversario della fondazione del gruppo. L'ammassamento è previsto alle ore 8.30, seguirà poi l'inaugurazione del piazzale Alpini di fronte alla sede e alle 10.30 i discorsi ufficiali. Il corteo poi si muoverà per la messa e a seguire la sfilata lungo le vie del centro e tra l'altro proprio a Costigliole, verso le ore 17, ci sarà l'arrivo del tour tra Langa e Monferrato, la gara di regolarità turistica di autostoriche. La partenza è prevista alle ore 11 a Moasca, dove si ritornerà poi alle 17 per le premiazioni. Ma fra le tante altre sagre e manifestazioni segnaliamo ancora la sagra della Ciliegia a Revigliasco, quella del Borgo a Santa Maria Nuova e quella della Tinca a Val Fenera. Il maritaggio, barbere e riso a San Marzanotto, le sfilate e le cene medievali a Cocconato e a Cosombrato, il fritto misto di pesce e rucchè alla cantina di Castagnolo e Monferrato. E con questa ampia rassegna sulle sagre, qui da Asti è tutto. Grazie come sempre per l'attenzione. Ci rivediamo per i prossimi collegamenti. In collaborazione con UNESCO, l'astigiano candidato a patrimonio dell'umanità.